Musica Oh questa volta potremmo fare l'assaltatore Queste sono le due skin supplementari che abbiamo ancora bloccate Abbiamo solo Markov Selezioniamo Questi sono i bonus che possiamo utilizzare Mettiamoci Un bel bonus danni di tutti Non si fa proprio male E vediamo un po' il mostro che cazzo sceglierà Per la gloria Per la gloria Mica se è un grossio Madonna mia Ecco l'assaltatore forse è la classe che in teoria fa più danno Però è quello che piglia più mazzate perché è quello che va sotto Il mostro Anche se poi in realtà i mostri tendono ad ammazzare prima i medici Inizio è uguale per tutti i quadri Spremmo giù Questo Oddio questa in realtà è l'arma principale che ha l'assaltatore Quindi una sorta di raggio elettrico Poi abbiamo anche un fucile d'assalto Classico Per la lunga distanza Poi abbiamo Lo scudo Questo scudo che abbiamo attivato che ci rende temporaneamente immortali E con il 3 abbiamo queste mine che piazziamo E fanno una marea di danno Però come vedete sono a tempo perché dopo di un tot scoppiano Vediamo gli altri andiamo a vedere un pochino In dove sarà nascosto il mostro Eccolo lì in fondo Ma guardate come spara il laserone Sfiamma tutto Dai 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 E' ottimo per fare la piazza pulita attraverso Stava arma qua che fa veramente tanto danno Poi quando ci sono tutti i mostricini attaccati Eccolo lì Ti ho allungato la vita Vivi l'assaggiamente I soliti uccellacci che ti fanno beccare Qui ci sono anche Quegli uccelli che sono sempre in giro al mostro Dov'è? Ah ho sbagliato il tasto Sanca tua Abbiamo giù un po' di mine Figgiatene figgiatene tutte Madonna mia ma che cazzo di male fa o? Tanti facciamo male anche noi La creatura è strappolata Campo curativo pronto Guardate qui Centro Ciucciati il laser Dov'è? Dov'è? Il tempo della cupola sta per finire Spamare il laser Un faffanculo speciale dai Cerca dei punti deboli Cazzo roia Piccolo Non avvistato Ma noi siamo lontani Cazzo Rimettimi in sesso Golfito Lo sentite? Ci chiama Trovatemi e uccidetemi Accontentiamolo Levatemi questo struscio Questo dovrebbe rimettervi in sesso Nardi pronti Sentiamo qua sopra di mine Corpito Sta tirando rocce Si sta ancora ricaricando Attenzione Croccia No cazzo l'hanno mancato Come avete visto Il trapper se sbaglia Tenendo schiacciato il 4 Può cancellare la cupola He's going left Mi sto girare qua dietro Eccolo qua Passo alle mine È bloccato Preparo il proietta scudo Finito Ah la s**ta Che cazzo vuole sto cosa Faffanculo Capo curativo pronto Fate attenzione C'è un'vestione Finalmente Cazzo Ero stupo Di sparare a questa maledetta corazza Finansiamento Niente Grazie ad un'accurata Sappiamo dov'è Il medico Un diversivo temporaneo Bravo Bravo Poi se ci cura ancora un po' Magari ci fa anche un piacere Ecco Ti ho guarito Siamo due ai pari Demone Caproia Carta moschicina Mettiamogli un po' di granate Porca puttana che botte tira Rianchiamo tutto di mine No? Non si fa male Ah porca troia Siamo a terra No siamo imboscati No lui ci vede benissimo Stamminando Porca In mezzo alle frasche Siamo Oh Scudo carico al massimo Grazie Mine Dove cazzo scappi Cazzo di fango Noo in acqua Qualcosone qua Via 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 Ah il campo curativo è pronto Eccola Lo sapevo Cazzo No dai Sono stronto Grazie Amici Ecco Che ci bello Ora ci potrebbe fare Veramente in cuo Preparo la copola Lo hanno preso Eccolo lì Ecco Ti ho guarito La fauna è un po' esaggitata Vero? La fauna è un po' esaggitata La fauna è l'amore Ehi Spunta fuoco Forza Ma è mortale Sto qua Stiamo cartellando di botte Da non so quanto Il dispositivo è pronto Lasero rotto Vedete Sparate lì Niente più scudo Stola da stante fronte Dardo a segno Ok penso io Il tuo scudo Mi senti meglio? Certo che sì Porca puttana Stoltosa che non muore Oddio arriva Questo che vuoi Dov'è? Questo dovrebbe rimetterti in senso È bloccato Fuoco Nooo Cazzo Ci stava andando sopra Questo bastardo di culo È saltato via Nooo Morto Morta Uff Mica questa è stata difficile Ma straccio livello 3 Però ammazzato Mica come avete visto L'assaltatore È un È un tank Praticamente Riesce a tenere Il mosso per alcuni secondi Fa un sacco di danno Però vabbè Se non è supportato Dagli altri Muore subito Scoppia Sono saliti anche di livello Benissimo Bene Questo Era l'assaltatore Grazie 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 Grazie